Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a questa serie di incontri sull'Xenofiction, sono Francesca D'Amato, scrivo, ho una piccola tendenza a scrivere di draghi, ma piccola, e con me c'è la dottoressa in scienze naturali, Benedetta Troni, che anche lei scrive, Benedetta, grazie per essere qui e grazie soprattutto per aver messo tutte le ore di lettura che hai impiegato a documentarti per questo appuntamento a nostra disposizione. Grazie a te, ci tenevo tanto perché secondo me l'Xenofiction è un genere narrativo che purtroppo passa spesso in sordina, ma che meriterebbe molta più considerazione, soprattutto alla luce anche delle problematiche ambientali, ma di questo parleremo meglio in seguito perché l'Xenofiction è molto importante anche per quanto riguarda gli aspetti naturalistici. E come dice il sottotitolo, appunto, l'Xenofiction riguarda i libri narrati dal punto di vista degli animali, ma più in generale tutti quei punti di vista che non sono umani, da qui Xeno che appunto vuol dire altro. Esattamente. Appunto, gli argomenti che tratteremo in questo ciclo di video saranno appunto la storia di questo genere, che è quello di cui parleremo di più oggi, poi nella prossima live invece parleremo dei sensi degli animali nella Xenofiction e un terzo blocco invece sarà dedicato ai consigli per scrivere Xenofiction. Tutti questi eventi sono calendarizzati appunto nel maggio dei libri e qui nella slide vedete le date. Sì, ci troverete online su YouTube, le registrazioni resteranno disponibili, ma il giorno in cui verranno messe in onda voi potrete farci delle domande e saremo lì sotto a rispondervi nei commenti. Quindi anche oggi che ci state vedendo, se avete delle domande scrivetecele e oggi Benedetta vi risponderà. Io sarò in viaggio per il salone del libro di Torino, dove esce il mio libro e quindi sarò un filo emozionata e un filo distratta, ma da giovedì 16 fino anche al 23 maggio saremo lì entrambe, quindi chiedete e vi sarà risposto. Ok, allora partiamo con una definizione. Come dicevo prima, la Xenofiction comprende tutti quei libri narrati da un punto di vista non umano, quindi possiamo parlare di un animale ma anche di una razza fantastica, per esempio un elfo o un nano, oppure anche di un alieno per esempio. Di conseguenza questo genere abbraccia anche la fantascienza e il fantasy, ma noi ci concentreremo sul filone naturalistico, diciamo così. Cioè quei libri narrati dal punto di vista di animali normali, diciamo così, animali del nostro mondo. Qui ho messo un esempio che è Zanna Bianca di Jack London. Allora, questo genere affonda le sue radici nel 1877 con Black Beauty di Anna Sewell, anche questo è un libro famosissimo soprattutto tra i lettori più giovani. Anna Sewell era la rampolla di una famiglia quacchera che purtroppo a causa di un'invalidità alle caviglie era costretta a spostarsi su un calesse trainato da Daytoni e per questa sua condizione lei cominciò a interessarsi al modo in cui venivano trattati i cavalli nella società vittoriana. Black Beauty quindi è stato scritto per denunciare i maltrattamenti a cui erano sottoposti i cavalli e anche per fare luce su alcuni aspetti legati ai maltrattamenti a fine estetici, per esempio il taglio della coda o l'utilizzo della briglia corta. Conobbe una fioritura molto prolifica nei due dopoguerra, quindi nel periodo diciamo tra il 1920 e il 1980 indicativamente. La gran parte di questi autori erano veterani appunto della prima e della seconda guerra mondiale. Qui alcuni esempi come Henry Williamson, l'autore di Tarka la Lontra, oppure anche Richard Adams, l'autore della Collina dei Conigli, questo sicuramente l'avete sentito nominare, oppure anche Brian Carter di A Black Fox Running, questo qui che vedete nella slide, purtroppo disponibile solo in inglese. Altri autori di questo periodo sono per esempio Felix Salten con L'Opera di Bambi e anche Georgi Vladimov con Il fedele Ruslan. In tutti questi libri c'è una grande attenzione al tema dell'antropizzazione, soprattutto per quanto riguarda la campagna inglese. Questa è una scuola che si sviluppa soprattutto in Gran Bretagna. Il mio personale incontro con questo genere è avvenuto con il gabbiano Jonathan Livingstone, che è un'opera del 70 ed era stato scritto da un aviatore. E quello che veramente mi lasciò di sasso leggendo questa storia è che quello che importava al protagonista, che è un gabbiano, è imparare a volare. E quindi tutto il libro, tutti i suoi problemi, tutti i suoi tentativi, tutti i suoi sforzi, i suoi fallimenti, riguardavano la velocità che poteva raggiungere volando, le acrobazie che si potevano fare. Ed era un libro in cui un aviatore inseriva la sua conoscenza del volo, delle correntiere, delle acrobazie e le dava a un animale. E questo mi ha fatto vedere il mondo, un mondo fatto di aria, di vento e di nuvole, immergendomi lì dentro e capendo che quando un animale è così diverso da noi e si sposta in un modo che non è camminare sul suolo, ma è muoversi in tre dimensioni, allora tutto il mondo cambia e tutto ciò che a lui interessava diventava una cosa diversa da quella che avevamo sperimentato fino adesso. Capire questa cosa che è anche solo spostarsi in tre dimensioni invece che in due e ti cambia il modo di vedere il mondo è stato un problema anche per i piloti da guerra, delle guerre mondiali. Appena inventata l'aviazione i piloti la concepivano come una forma più veloce e più alta di cavalleria e quindi usavano le stesse tecniche, le stesse formazioni da battaglia che si usavano stando in sella solamente in aria. Ed è solamente capendo che in aria le dimensioni sono tre che si sono potute inventare delle manovre in cui fare dei loop che a cavallo sono totalmente impossibili, a cavallo ti sposti solo di lato e puoi fare gli accerchiamenti, ma in 3D gli vai sopra, gli vai sotto e puoi fare cose impensabili in due dimensioni. E questo è stato il primo scalino, il primo tic che mi ha fatto pensare, ok ci potrebbe essere un altro modo di vedere il mondo se sei dotato di un corpo che non è umano. Quando invece ho letto Tarkalalontra mi sono annoiata a morte. Anche io ho studiato scienze naturali e quindi i nomi degli animali citati li conosco e mi risuonano e mi evocano dei ricordi, però è come leggere un catalogo, è come sfogliare il catalogo di un vivaio e scegliere quali piante ti sono, perché è un grosso elenco con una storia non così avvincente perché ancora il genere era, non so come dire... Non è ancora ben codificato diciamo così, sì forse in Tarkalalontra c'è più la volontà di un naturalista che osserva delle cose, ma non è propriamente una storia come magari la collina dei conigli dove ci sono dei personaggi con dei conflitti, degli archi di trasformazione. Tarka non ha un arco di trasformazione, semplicemente vive la sua vita assecondando i suoi bisogni, che è molto interessante da vedere, però appunto è come vedere un documentario, non è come leggere un romanzo. Più che vedere un documentario io direi entrare in un vecchio museo di quelli con le baccheche di legno e tutti gli animali impagliati dove li vedi uno dopo l'altro senza una storia, perché nei documentari di oggi le storie ci sono. Sì, per questioni diciamo, per tenere alta l'attenzione del pubblico devono mettere delle storie. Questo libro però ha convinto un sacco di ragazzi che l'hanno letto e che se ne sono innamorati a intraprendere uno studio della natura fatto di attenzione ai dettagli e di immersione in un ambiente considerandone tutte le sue parti e non solo i singoli oggetti di studio separati, messi in provetta e studiati in laboratorio. E questo ha convinto degli zoologi a dedicare la propria vita allo studio degli animali facendoli innamorare di questo ambiente, vedendoli dal punto di vista di una lontra. Mi sembra che Jane Goddall sia una di loro e che in un'intervista abbia detto io ho deciso di studiare zoologia perché da ragazzina anche una delle esperienze che mi hanno spinto è stata leggere questo libro. Quindi quello che noi facciamo oggi e che scriviamo di animali sappiate che può avere un effetto su qualcuno che ci legge e che potrebbe essere qualcosa che stimola gli scienziati di domani a prendere questa strada. Sì, è molto interessante. Ecco, e questo ci porta anche a un'altra questione molto importante, cioè che per una volta in questi libri l'uomo non è il centro della narrazione, l'uomo non è il centro dell'universo. Il centro è un coniglio, una lontra, un cerbiatto, eccetera. Mi spiego un po' meglio. Allora, noi umani, come dire, di programmazione, siamo abituati a prendere la nostra esperienza come misura di tutte le cose. Le cose che per noi sono buone sono buone in assoluto, le cose che sono cattive per noi sono cattive in assoluto. Tipo il lupo, nelle favole, appunto, è cattivo perché per le attività, per esempio, di pastorizia, mangia le pecore, quindi è cattivo e nelle favole diventa il cattivo per eccellenza. Oppure, in narrazioni più moderne, il lupo è sempre quello buono, anzi, è magari anche focoloso, cioè si fa accarezzare da degli esseri umani perché abbiamo stabilito che è buono per noi, quindi è buono a priori. Quello che manca, però, è una narrazione più equidistante, anche con una prospettiva più scientifica, che lo rappresenta appunto proprio come un animale, più che come, diciamo, un archetipo di cosa buona o cosa cattiva. E di questo io ho trovato un esempio molto bello, che è Osso la lupa, di Matteo Antonio Rubino, che racconta proprio la storia di Osso, che è questa lupa, la quale va a ricolonizzare un territorio nelle Alpi. I lupi in passato erano diffusi in tutta l'Europa, in tutta la penisola italiana, oggi stanno ritornando ai loro antichi areali e questa cosa purtroppo provoca un po' di attriti con le comunità locali. Osso parla proprio di questo. E tra l'altro è in collaborazione con il progetto Io non ho paura del lupo e con il WWF. Il punto, quello che sto cercando di dire, è che la narrazione dell'Axiano Fiction consente da un lato di scardinare dei preconcetti legati agli animali e dall'altro aprirsi anche a nuove sensibilità e anche a problemi legati alla biodiversità, cioè di averne una comprensione più chiara, perché li vediamo dal punto di vista di un animale, quindi da qualcuno che li vive tutti i giorni senza i comfort della tecnologia. Una persona che si pose queste stesse domande un po' di tempo fa fu Tolkien. Tolkien si era studiato i bestiari medievali e sapeva benissimo che gli animali nel Medioevo erano visti come simbolo di vizi o virtù e la loro esistenza serviva solo a dare degli insegnamenti agli umani. Erano stati messi lì per simboleggiare qualcosa. La loro esistenza aveva senso solo nel rapportarsi all'uomo e a lui questa cosa non piaceva e non piaceva neanche quello che avevano fatto alcuni dei suoi contemporanei di trasformare il drago in una pucciosa animaletto per bambini. Lui voleva riportare i draghi alla loro dragosità, cioè alla loro esistere come animale che ha in sé stesso il senso della sua esistenza, che non ha bisogno di qualcun altro per essere validato e Smaug e tutti gli altri sono il suo risultato dell'estrazione del simbolo, cioè ha tolto questo carico simbolico dal drago per ridargli un po' di naturalezza. Da lì in poi abbiamo avuto anche storie più intense con draghi che facevano i draghi senza dover per forza avere a che fare con un mondo umano. Sì, questo è molto interessante. Tra l'altro, per chi fosse interessato, nella Collina dei Conigli, a meno così è apparso a me, ci sono molti legami col Signore degli Anelli per quanto riguarda i temi e caratterizzazione dei personaggi, con questa compagnia di conigli che compie un viaggio attraverso la campagna sempre più antropizzata, quindi sempre più soggetta all'azione umana e deve trovare appunto un nuovo posto dove fondare una nuova conigliera. Secondo me, per quanto riguarda personaggi e temi, c'è molto di Tolkien anche nell'opera di Adams. Vediamo adesso la questione più interessante. Allora, la xenofiction, purtroppo, anche essendo un genere così di nicchia, ha dei bias nella rappresentazione delle specie animali, perché, come abbiamo detto, essendo una scuola nata e fiorita soprattutto in Inghilterra, tende a rappresentare quasi esclusivamente mammiferi appartenenti alla fauna europea. E da un lato questo è anche dovuto al fatto che in passato erano i mammiferi gli unici animali a essere ritenuti intelligenti, i rettili, i pesci, gli anfibi, erano ritenuti appunto più stupi o comunque non meritevoli di attenzione quanto i mammiferi. E ora, per fortuna, questa cosa sta un po' cambiando. Vedremo poi in seguito nelle live altri esempi di xenofiction che prendono in considerazione animali più peculiari, ma per adesso vediamo appunto soprattutto animali europei. Inoltre, questo genere manca ancora oggi di una caratterizzazione univoca, cioè è il motivo per cui pochi ne sentono parlare. Queste opere, più oppreso ad esempio Bambi, vengono spesso classificati come narrativa per bambini o ragazzi, oppure in forma più generica come classici. E da un lato questo è comprensibile perché è un tipo di narrazione che può calzare con i lettori mid del grade per come è strutturato, però dall'altro fa perdere anche un po' di quello che è il sottotesto dell'opera. Per esempio, Bambi nacque come metafora dell'antisemitismo vissuto dall'autore stesso. Infatti le SS bruciarono e vietarono Bambi perché è ritenuto metafora politica del trattamento degli ebrei in Europa. Oggi per fortuna le nuove edizioni mettono in luce questo aspetto, però appunto lo ritroviamo purtroppo relegato spesso a narrativa per bambini, forse anche per colpa del classico Disney. Parlare di animali a un adulto è strano perché i bambini sono generalmente curiosi e se anche gli racconti dei fossili o di qualsiasi altra cosa ti ascoltano e se la storia è bella se la godono. Gli adulti sviluppano dei gusti molto più settoriali e più mirati, escludono certe cose, specialmente nel momento dell'adolescenza quando la persona vuole distaccarsi da tutto ciò che ha rappresentato l'infanzia. Basta, io sono grande, io con le bambole non ci gioco più. E sono questi momenti di autoaffermazione e di creazione della propria immagine d'adulto che accantonano un certo numero di argomenti. E se hai avuto tanti libri con i disegni da bambino che parlano di animali, allora quello diventa contagiato, diventa tinto di infantilità e non viene più considerato degno di far parte della tua vita da adulto. È un peccato nel senso. È un peccato ma penso sia stato anche il problema del fantasy, perlomeno in Italia, cioè che c'era questo pregiudizio che fantasy, draghi, elfi, gnomi sono cose da bambini. Io che sono grande non li leggo più. Sono libri, tra l'altro, privi di argomenti interessanti, cioè di argomenti maturi. Parlano solo di frivolezze. Invece, appunto, qui ho fatto l'esempio di Bambi, ma anche nel Signore degli Anelli ci sono temi molto più profondi. Quindi questa è una letteratura che non è soltanto storia di animali o storia di draghi ed elfi. C'è un sottotesto che merita di essere analizzato. L'elfo e il drago ci hanno messo un sacco, ma sono riusciti a diventare materiale per adulti. Se pensiamo a Game of Thrones, il trono di spade, i draghi ci sono e sono storie per adulti. L'ognomo è ancora relegato solo al parco giochi dei bambini. Le storie di fate ci sono anche per adulti, ci sono storie di sirene per adulti. Quindi l'ognomo non ce la fa. L'ognomo, aiutate gli ignomi a superare questa barriera. C'è questo tetto di vetro, c'è questo limite invalicabile. Basta, l'ognomo è una cosa per bambini, lo puoi fare solo puccioso. Se lo fai al massimo il porta fortuna per l'ognomo del tuo nome, ma non ci sono storie grim-dark con gli ignomi, per favore scrivetele. Fate l'enciclopedia degli ignomi stile di Emily Wilde, cosa così. Fatelo. E questo, diciamo, conclude un po' il primo video. Qui ci sono appunto i nostri contatti. Io ho un canale Instagram dove pubblico recensioni di libri e racconti, alcuni scritti da me, sull'Axeno Fiction. Francesca Romana D'Amato invece la trovate sul blog Gnomi di Caverna. E presto, nel Salone del Libro, troverete anche il suo nuovissimo libro che io non vedo l'ora di leggere, l'ho preordinato. Sono qui che mi prego le mani perché ci saranno dei racconti di Xeno Fiction sui draghi. Quindi non perdetevelo. Sono andata a cercare tutte le storie dei draghi d'Italia e ovviamente in qualcuna ci sono i Cavaliere e i Santi perché fanno parte della nostra tradizione. Ma in altre ci sono storie di draghi dal punto di vista del drago. Quindi, grazie per l'attenzione, appuntamento a settimana prossima.